efficientamento energetico e transizione digitale sono state tra le parole chiave al centro del convegno credito al credito organizzato a roma dall'abi a confrontarsi sono stati molti dei principali player dei settori creditizio immobiliare pronti a creare sinergie in una fase storica complessa ma anche molto dinamica tra gli altri bnl bpm facile.it mutui online intervenuta anche la fiaip che ha rilanciato le proposte di categoria per consolidare la svolta green di un patrimonio immobiliare come quello italiano all'80 per cento ancora piuttosto indietro nell'ottica degli obiettivi europei 2030 è già da dieci anni che c'è una crescente sensibilità da parte della comunità della collettività verso le tematiche del cambiamento climatico della sostenibilità ambientale ma anche una grande consapevolezza degli investitori nel voler acquistare sempre di più immobili meno energivoli quindi più efficientati a livello energetico e crediamo che sia anzi sarà determinante lato legislatore riuscire a rendere strutturali i vari bonus fiscali casa riuscire a rendere strutturali super bonus e lato sistema bancario riuscire a mettere in campo anzi a rafforzare dei prodotti finanziari come mutui green affinché ci sia come dire questo accompagnamento della collettività verso la transizione energetica immobiliare. Pur in un trend di prezzi complessivamente stabile la domanda alle agenzie di immobili ad elevata efficienza energetica ha fatto segnare un importante più 30 per cento tra le misure che l'hanno sostenuta oltre ai mutui green anche la garanzia consap su quelli ai giovani bonus e agevolazioni fiscali tra cui l'ambito 110 per cento hanno invece spinto le ristrutturazioni in chiave energetica permettendo all'intero comparto di essere un pilasto della nostra economia nel difficile biennio covid. La richiesta condivisa ora quella di stabilizzare e semplificare il quadro fiscale normativo per dare certezze ad esempio sulle perizie energetiche tanto agli operatori quanto ai potenziali acquirenti e procedere spediti verso un futuro sempre più multicanale trasparente e tecnologico. Sul fronte del credito protagonista nel 60 per cento delle transazioni immobiliari si corre infatti verso un nuovo modello ibrido di intermediazione fisica e digitale ovvero FIGITAL come ridefinita da Auxilia Finance società che fornisce già diversi servizi dematerializzati e scommette forte sulla digitalizzazione. Stiamo lavorando con alcune banche partner per digitalizzare non solo la parte di processo di intermediazione relativa alla società di mediazione creditizia e quindi il contratto che riguarda la mediazione, la privacy, la normativa antiriciclaggio ma ad integrare anche una parte del processo che riguarda la banca e quindi la fase di underwriting, quindi la sottoscrizione del contratto di mutuo che può essere digitalizzato e caricato sulla piattaforma di negoziazione con la banca stessa.